Siamo nel 2021, primo centenario della morte di Don Paolo Albero, secondo successore di Don Bosco. Siamo qui con Paolo Vaschetto, salesiano laico, che ci aiuterà ad avvicinarci alla sua vita e alla sua opera. Sappiamo che Don Paolo Albero era uno dei giovani di Don Bosco e amico di Michele Margoni. Quali sono i punti più importanti della sua vita? Quando aveva solo 18 anni, Don Paolo Albero fece parte del primo gruppo di salesiani che con Don Rua andò a Mirabello per portare lo spirito di Valdocco e di Don Bosco in quel paese. Poi nel 1868 lui era diacono quando la Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino venne consacrata e qualche mese più tardi lui venne ordinato sacerdote a Casale e lì Don Bosco gli fece degli auguri specialissimi. Don Paolo Albero, che era un giovane prete, ora aveva tutto il mondo davanti e sarebbe stato pronta ad andare ovunque nel nome di Don Bosco. Per cui fu mandato per i primi anni come direttore a Genova e poi fu mandato come ispettore in Francia. La Francia a quel tempo era una nazione piuttosto ostile verso i religiosi, ma si trasformava in terra promessa quando Don Bosco intraprendeva viaggi trionfali annuali con lo scopo di raccogliere beneficenza. Don Albero gli era sempre accanto e poi quando Don Bosco non poteva più visitare la Francia, allora lui stesso tornava a Valdocco per vederlo e per stargli accanto durante la sua ultima malattia. Avrebbe anche voluto esserci per assisterlo negli ultimi momenti della sua vita, ma per vari contrattempi il 31 gennaio del 1888 la notizia della morte di Don Bosco lo raggiunse a Marsiglia. Fu un duro colpo per lui, ma non si scoraggiò, cercando di conservare la memoria di Don Bosco nell'imitazione più fedele possibile di tutte le sue caratteristiche umane, morali e religiose. E seppe così bene incarnare lo spirito e l'animo del suo padre spirituale Don Bosco che in Francia era chiamato Le Petit Don Bosco, il piccolo Don Bosco, una miniatura in tutto simile all'originale. Immagino che non sarà stato facile senza Don Bosco. Proprio vero, ma Don Albera insieme a Don Rua e a tutti gli altri salesiani provò a continuare il lavoro di Don Bosco con il suo stesso spirito. Dal 1892, dopo il servizio in Francia, fu chiamato a Valdocco per diventare il direttore spirituale della congregazione, quello che noi oggi chiameremmo il consigliere per la formazione. Viaggiò un po' ovunque per visitare le case di formazione, si perfezionò nell'uso delle lingue straniere e sempre richiamò di mantenere una forte spiritualità, una vita di preghiera intensa e di sacrificio per il bene delle anime dei giovani. Una vicenda, possiamo chiamarla epica, che lo coinvolse fu la visita di tutte le case dell'America. Un viaggio che durò per ben tre anni e che partì dalla terra del fuoco in Argentina e finì a New York. Potè rendersi conto di persona del grande lavoro dei salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice in quel continente e incoraggiò i missionari che lavoravano in condizioni davvero difficili. Diventò infine rettor maggiore. Si può dire che era il successore più naturale a Don Rua? Di certo aveva sia la personalità che l'esperienza necessaria e aveva anche la stima e l'apprezzamento della Chiesa e delle autorità civili per un'opera che era in grande espansione sull'onda dell'entusiasmo per il fatto che Don Bosco era stato dichiarato venerabile da poco tempo ed era molto popolare tra la gente. Poi le opere tipicamente salesiane come l'oratorio, la catechesi erano celebrate e approfondite in miriade di congressi e le associazioni della famiglia salesiana, tra cui i cooperatori, ex-allievi ed ex-allieve avevano anche loro i loro congressi che servivano a rinsaldare l'unità interna e ad esprimere il successo educativo dell'opera e del metodo salesiano. Siamo negli anni della prima guerra mondiale in che modo coinvolse i salesiani? I salesiani giovani furono impiegati in varie menzioni nell'esercito alcuni erano cappellani militari, altri erano invece barellieri altri invece portarono il fucile erano davvero in una difficilissima situazione e scrissero moltissime lettere a Don Albera per chiedergli vicinanza e preghiere. Lui cercava di interessarsi a tutti e intanto incoraggiava i rimanenti confratelli a coprire i vuoti lasciati e a non chiudere le case e le scuole. E perché? Perché aveva nel cuore i ragazzi e non poteva abbandonarli. Cosicché anche in piena guerra aprì orfanotrofi e immediatamente dopo fiorenti oratori. Gli orfanotrofi coprivano un'emergenza creatisi per le molte vittime del conflitto armato ed è tra l'altro da notare che i salesiani e le figlie di Maria Ausiliatrice aprivano orfanotrofi non solo sul territorio italiano ma anche in tantissime altre nazioni. L'oratorio invece dava opportunità ai giovani di ricevere educazione di qualità in ambienti popolari che spesso erano in balia di persone di pochissimi scrupoli. Le opere tipicamente salesiane dell'oratorio, del collegio, della scuola professionale erano apprezzate e conosciute ovunque tanto che domande di apertura di case aggiungevano tutto il mondo. Di pari passo anche le vocazioni crescevano e quindi si cercavano nuovi ambiti dove espandere il mondo salesiano. Come erano i giovani tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo? Per quanto riguarda la situazione giovanile molte persone erano preoccupate dal fatto che la rivoluzione industriale che pure aveva portato qualche progresso aveva contribuito ad allontanare i giovani dalla Chiesa. Anche di questi anni è il fenomeno dell'emigrazione verso altri paesi e per fortuna i salesiani erano già presenti in terra di missione anche per assistere questi immigrati. Ma in Europa il conflitto era a livello delle idee con gruppi di ispirazione anticlericale che sorgevano un po' ovunque. Come spesso accade moltissimi si contendevano i giovani cercando di attirarli in tutti i modi. Per cui questa sapiente proposta di tempo libero tra sport, teatro, musica e anche cinematografo che era l'oratorio di inizio del Novecento e una qualifica professionale che si poteva acquisire nelle scuole dette di arti e mestieri risultò vincente e molti giovani trovarono all'interno delle opere salesiane le linee guida su cui impostare il proprio futuro. Tornando a Don Albera quali sono le sue caratteristiche che ci fanno capire come lui fosse in sintonia con il mondo e al passo con i tempi? Don Albera ha visto il mondo viaggiando in nave, a cavallo in carrozza, in treno e anche già in automobile. si preparava per le sue visite leggendo moltissimo e impraticandosi anche nelle lingue straniere. Il suo francese era molto buono e il suo diario spirituale anche nel periodo dopo la sua permanenza in Francia era in francese. Poi si rese conto dell'importanza della lingua inglese e cominciò a studiarlo ed aveva quasi 60 anni. I diari spirituali dal 1902 al 1910 sono in inglese non perfetto ma certamente apprezzabile. E a riguardo dell'essere al passo dei tempi penso che Don Albera tentò di dare all'oratorio una dimensione molto moderna. Infatti oltre all'offerta religiosa e ricreativa si predisponevano percorsi adatti per i giovani lavoratori come cicli di formazione sociale con conseguente apertura dell'oratorio anche nei giorni feriali. Poi c'era un ufficio di collocamento al lavoro e anche la sensibilizzazione alla previdenza e al risparmio. Questo nuovo modo di alternare attività formative e ricreative fece sì che l'oratorio diventasse un luogo privilegiato di educazione integrale. Il messaggio di Don Albera è ancora attuale? Don Albera era combattuto un po' come tutti noi tra il desiderio di fare sempre di più e meglio e le difficoltà di comunicazione e di relazione con gli altri. Leggiamo i suoi travagli nel suo diario interiore e ancora di più nelle lettere che scriveva, ad esempio, durante il suo viaggio in America. In alcune nazioni aveva trovato situazioni molto difficili ma nonostante tutto apprezzava il lavoro dei confratelli magari un po' imprudenti ma che avevano un grande cuore apostolico. Più che rimproverare lui amava incoraggiare e più della teoria amava dare l'esempio concreto. Grazie Paolo per il cammino fatto con Don Albera. A questo punto vorremmo invitare tutti al Valdoco a visitare una mostra su Don Albera intitolato Don Albera il mondo negli occhi che aprirà in presenza il 15 gennaio e dopo poche settimane sarà visitabile online. Ci saranno in mostra foto splendide dei viaggi di Don Albera e documenti personali che ci aiuteranno a capire di più la sua persona e la sua grande sensibilità. Assolutamente da non perdere.